Il ricordo del padrono di Strano Light in una domenica pomeriggio di volley a Pedara, un triangolare organizzato dalla Planet con Golden Volley a Cicatena e Ab Ambiente, Teams Volley, nel ricordo di Nunzio Strano, numero uno della realtà settore illuminotecnica da sempre vicino allo sport, da anni main sponsor della Planet Volley. Dalle atlete biancorosse di casa la consegna di tre targhe e tre maglie ufficiali ai figli di Nunzio Strano, Dario, Roberto e Giorgio visibilmente commossi. Per l'omaggio e l'accoglienza ricevuta in un palazzetto di Pedara gremito e colmo di entusiasmo, strettosi idealmente e materialmente dentro e fuori il parchè attorno alla famiglia Strano, anche quando nel lancio di un audio estratto da un'intervista realizzata in occasione di auguri di Natale e presentazione della squadra di qualche stagione dietro Papannunzio ha augurato il meglio alla Planet, ad Maiora sempre, così si era espresso. Ad aggiudicarsi il Memorial, la Teams Volley guidata da Ina Baldi che ha vinto per 2-1 sia sulla Planet sia sulla Golden per la Planet, successo di apertura sulla Golden per 2-0. Da sabato sarà già campionato almeno per le due squadre di B2 viste all'opera non solo domenica pedale, ma anche in altre occasioni precampionato come il Bonarelli e la Merit Cup, ad assistere all'evento anche alcuni partner della Planet Volley. A conclusione di questo servizio l'intervento di Roberto Strano durante la consegna di targhe e maglie. Ringrazio tutti i partecipanti della manifestazione che stanno onorando al meglio il nome di papà. Mi chiedeva se gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e se questa passione sarà, diciamo così, proseguirà con noi figli, sicuramente sì, anche perché i valori dello sport, i valori della modalità, dello sport in genere, sono fatti soprattutto degli sport di squadra, di unità, di passione e sono stati gli insegnamenti di una vita di mio padre, per cui sicuramente così come nel lavoro, nello sport, continueranno i suoi insegnamenti e la strada ci è stata insegnata e sicuramente la proseguiremo, per cui la risposta è sicuramente sì. Grazie a Francesco perché non appena... Non ci ha pensato un attimo a voler organizzare questo memorial, subito dopo, purtroppo, nell'evento e ovviamente siamo onorati di poter essere qua, di poterlo ricordare, anche queste sono occasioni utili per cercare di ricordarlo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.